Sempre più spesso si registrano fatti di cronaca che riguardano fughe dopo aver causato incidenti stradali. L'ultimo caso in provincia di Pesero e Urbino risale a venerdì scorso lungo l'autostrada 14 in direzione sud tra Fano e Marotta. Poco prima dello svincolo per il casello, intorno alle 13 il conducente di una Porsche di colore nero nell'effettuare una manovra di sorpasso a destra di una Mini con quattro persone a bordo, l'ha urtata nello spigolo posteriore destro. A causa dell'impatto la Mini è finita contro il guardrail andando in testa a coda e un occupante del veicolo è stato proiettato fuori dall'abitacolo finendo in corsia di marcia. Le sue condizioni inizialmente sono sembrate molto gravi, tanto che è stata allertata l'iliambulanza. Poi però la chiamata è rientrata. Con grande prontezza il conducente della Mini è riuscito a raggiungere la piazzola di sosta circa 40 metri dall'incidente e a soccorrere l'amico ferito trascinandola a bordo della strada. I quattro occupanti della vettura, ventenni della provincia di Ancona, sono stati trasportati per le cure da due ambulanze del 118 all'ospedale Santa Croce di Fano, dove sono state riscontrate ferite guaribili dai 10 ai 15 giorni. Il più grave, sbalzato dal mezzo, è stato trattenuto, annoso come un'osservazione ma non in pericolo di vita. Nel frattempo la polizia ha subito acquisito testimonianze e informazioni utili ad identificare il pirata della strada, diramando immediatamente le ricerche in tutta la regione. Intanto il fuggitivo che non si era fermato a prestare soccorso si è presentato spontaneamente al commissariato di Senigallia. Si tratta di un 23enne, anche lui della provincia di Ancona. Negli stessi uffici poi si è recato anche il personale della polizia stradale di Fano per procedere alla denuncia del giovane per fuga e omessa assistenza a seguito di incidenti conferiti.